Festa in casa invicta, che chiude in battuta il girone di andata e mantiene saldo il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulle seconde nel campionato di Serie D di basket, dopo la vittoria sulla Leonardo da Vinci per 66 a 99. Vittoria netta a Palermo per i ragazzi di coach Spena, che chiudono la pratica già nel primo quarto con un primo parziale di più 20. Primato difeso e meritato per la società Nissena, composta di soli giocatori locali, che va alla pausa natalizia soddisfatta, ma non sazia e pronta a lavorare per un girone di ritorno in cui non bisogna abbassare la guardia per rimanere in zona play-off e continuare a sognare in grande.